Che per noi che viviamo e campiamo di identità digitale tutto il giorno, a volte una buonissima domanda è ma che cos'è l'identità digitale? Non è una domanda inutile, tutt'altro. Obbliga a riflettere su quello che uno sta facendo e sul senso, come dire, quasi della storia, perlomeno dell'evoluzione tecnologica. Allora, molto brevemente per spiegarvi perché parlo di questo tema oggi. Io, appunto, sabbia vi ho raccontato che in una vita passata ci siamo incontrati all'università, quindi Roma, Tor Vergata, poi a un certo punto della vita io sono andato a Napoli per lavoro, in un'altra azienda di cui oggi non ci interessa, e poi mi sono spostato in questa realtà che si chiama Bit4ID, che voi potreste aver incrociato se avete visto un qualche dispositivo di identità digitale che c'è una specie di quattro fatto di color rosso. Bit4ID significava Best Information Technology for Identification, quindi potete immaginare che noi di quello ci occupiamo. Un'azienda oggi che ha 150 persone in tutto il mondo, perché non solo c'è la sede a Napoli, che è il quartier generale, ma ci sono sedi sia in Europa, tipo in Spagna, sia fuori Europa, tipo in India e in Peru. Vi dico subito perché, perché quando voi volete occupare di identità digitale in un certo mercato, dovete stare proprio con gente di quella nazione, perché l'identità digitale come l'identità è una cosa strettamente legata alla cultura del posto in cui siete. Italia e Spagna sono certamente due nazioni molto simili dal punto di vista culturale e sociale, però ci sono differenze. Per capire quello che effettivamente loro vogliono e gli serve, c'è bisogno di un'azienda che sia proprio localizzata nel posto. Allora, in questa realtà io cosa faccio? Come prima stiamo dicendo, scherzando con Eusebio, io faccio sempre un po' l'eretico. Lo faccio anche in questa azienda nel senso positivo del termine, almeno spero, diciamo, finché me lo fanno fare, perché mi occupo di innovazione. Quindi sostanzialmente ho fatto anche attività seguendo clienti, anche abbastanza prestigiosi e quant'altro, ma oggi io mi pongo il problema non di quello che c'è di farlo funzionare, ma di costruire quello che non esiste. E queste cose le faccio in vari modi. In particolare, non ne parleremo oggi, a perdervi un quadro, ho cominciato alcuni anni fa a occuparmi di blockchain, quando se ne parlava molto poco di queste tecnologie, quando Bitcoin non veniva mai citato nemmeno una volta, nemmeno per sbaglio, su un giornale. Su questa cosa ho cominciato con la mia idea, la mia visione, che era legata appunto a identità digitale Bitcoin e blockchain in genere. E, come dire, ho trovato altre persone che un po' come me la pensano, mettiamo in questo modo, per cui poi mi sono trovato ad avere a che fare, adesso faccio parte di una serie di comitati di standardizzazione, sia in Italia che in Europa che in extra Europa. Ho fondato varie associazioni mondiali che si occupano di questi temi, spesso sono consulente della Commissione europea o di governi nazionali europei quando mi chiedono un parere su progetti di innovazione che riguardano identità digitale e blockchain. Quindi faccio danni, diciamo, su vari campi e va bene. Allora, prima Osebi a un certo punto ha fatto la domanda, noi non ci siamo messi d'accordo, però era perfetta, perché ha chiesto che cos'è l'identità digitale. Allora, vi dico subito, neanche chi si occupa sa dare una definizione, quindi non vi preoccupate. Il percorso che io adesso vi voglio provare a far seguire è partire dall'identità senza digitale, quindi l'identità normale, poi alcune questioni sull'identità digitale che ci serviranno poi per arrivare a un punto che riguarda la privacy su internet, che è un tema che certamente è molto interessante. Partiamo allora da l'identità nel mondo reale, diciamo così. Allora, io non sono un esperto di legge, non vi posso dare una definizione legale di che cosa sia identità, ne sarebbe certamente utile. Diciamo questo, dal mio punto di vista molto pratico e molto semplice, la mia identità o l'identità in genere è un modo per distinguere un soggetto rispetto a una moltitudine. Se io dico un italiano, chiaramente non sto definendo una persona specifica, se dico Paolo Campegiani, probabilmente ce n'è uno solo in Italia, potrebbero esserci degli omonimi. se do il codice fiscale, quello è sicuramente uno solo. Quindi è un modo per distinguere qualcuno. Perché devo distinguere qualcuno? Perché ci devo fare qualche cosa. Fa parte di una relazione sociale, di una transazione economica, di un rapporto d'affari, di una relazione d'amicizia, quello che volete, e io devo sapere che sto parlando con un soggetto specifico, non con un italiano in genere. Io sto firmando un contratto con Eusebio Gian Domenico, che è un soggetto specifico. Io non è che firmo solo contratti con Eusebio nella mia vita, diciamo, cioè non ho mai firmato, ma eventualmente ognuno di noi può fare tante cose, ha tanti tipi di transazioni diverse nella sua vita. O io sono figlio di mia madre, diciamo sono fratello di mia sorella, e sono due identità diverse, anche se hanno a che fare con la stessa persona. Io sono un dipendente di Bit4ID, e questo che significa, ad esempio, che i miei colleghi di Bit4ID mi conoscono per certi aspetti, per il mio ruolo aziendale, per le mie competenze, per i giorni in cui sono in ufficio o magari in cui sono inferio in malattia, per il mio indirizzo email. Perché a loro servono queste cose per avere a che fare con me. Mia madre, che certamente mi conosce da molto più tempo dei miei colleghi, non conosce il mio indirizzo email, però conosce l'indirizzo di casa, cosa che i miei colleghi non conoscono. Cioè ognuna di queste identità, che tutti noi abbiamo, come dire, che collassano su noi stessi, hanno a che fare con tratti diversi della nostra personalità, della nostra vita, e sono anche un po' segregate, anche positivamente. Non abbiamo bisogno di sapere tutto tutto di ogni persona con cui abbiamo a che fare. E queste identità e queste informazioni che si portano a presso noi le usiamo in contesti diversi. I miei colleghi mi vedono in un contesto in cui voi non mi vedete adesso in questo momento, ad esempio. O in cui non mi vede mia madre e così via. Insomma, o gli amici della palestra o quello che voi. Per farvi un esempio ancora più immediato, più universale quasi, se pensate a Facebook, molti di noi ce l'avranno di sicuro, ognuno di noi su Facebook ha tutta una serie di contatti, di amici. Tutti quei contatti definiscono solo quella persona. Cioè io sono l'unico al mondo che ha, come amici su Facebook, tutti e solo quel gruppo di persone. Perché anche se io avessi un fratello gemello che non ho, avremmo molti amici in comune, ma non sarebbero tutti. Quindi addirittura in certi casi, come dire, gli attributi, questi contesti, queste caratteristiche che noi abbiamo, che hanno a che fare con la nostra identità, ci identificano in modo molto molto forte. Appunto. E questo è un po' quello che succede nel mondo reale, ovviamente. Da un punto di vista molto utilitaristico, molto pratico, non stiamo analizzando la definizione legale. Allora diciamoci un'altra cosa. Cosa succede invece nel mondo digitale? Che cos'è l'identità digitale? Allora, prima confessione, non c'è una definizione univoca su che cosa sia un'identità digitale. Cioè gruppi di persone molto più capaci di me, in molto tempo hanno discusso, hanno trovato varie possibili definizioni, ma non hanno trovato una che vada bene per sempre. Perché, ricordatevelo detto all'inizio, l'identità è un fatto culturale. Il concetto di identità che c'è in Italia non sarà mai esattamente lo stesso di quello che trovate, anche in un'azione simile, come la Spagna, tantomeno se vi spostate da altre parti del mondo. Pensate che in certi stati ci sono organizzazioni di tipo più tribale, perfettamente legittime, e tu la tua identità è anche riferita alla tua tribù di appartenenza. Cosa che in Italia certamente non è. Allora diciamo questo, sempre per avere un approccio utilitaristico. Diciamo che l'identità digitale è quella cosa che a me serve per assomigliare in qualche modo a un'identità reale, che vale nel mondo reale, e che devo usare quando ho a che fare con un computer. E si porterà quindi appresso alcune caratteristiche che io anche vedo quando ho a che fare con che nascono da quello che vale nel mondo reale. Abbiamo detto uno può avere tante identità. Anche questo vale su un sistema informatico. Quando voi usate il computer dell'azienda, vi collegherete, vi dimostrerete che siete, chi dite di essere, usando in qualche modo una serie di dati di accesso, poi ne parleremo, quella è una delle identità che avete. Perché poi magari quel computer lo userete per collegarvi su un social network, per leggere un quotidiano online, per fare un'operazione di trading o anche per lavorare a un certo punto, e lì userete identità diverse. Quindi anche lì avete tante identità. Tutte queste identità diverse comunque si portano appresso il fatto che hanno a che fare, che sono definite una serie di attributi, cioè di caratteristiche che le definiscono. Per un'azienda voi potreste avere il numero di matricola, l'email, il numero di telefono aziendale, dati che probabilmente per vostra moglie o vostro marito sono completamente irrilevanti. Probabilmente non li sa, o comunque certo non li considera come prioritari nella relazione con voi. Una volta che noi quindi abbiamo detto che un'identità è associata un po' a queste informazioni, queste caratteristiche, allora diciamoci a che serve? Serve appunto per fare delle transazioni, delle cose online, cioè parlare con una controparte che non ci vede dal vivo, potrebbe addirittura essere un sistema con un computer, quindi un sistema informativo, informatico classico, ma che deve sapere alcune cose di noi perché deve avere a che fare con noi. Quando io mi collego sul mio sistema di posta elettronica, quel sistema è più o meno contento di darmi la mia posta, diciamo, purché sia sicuro che la dà a me, perché certo io non voglio che la mia posta sia letta da qualcun altro. E allora che succede? Succede che in un sistema digitale, in genere, un sistema informativo, come si dice, io dimostro la mia identità seguendo un processo che è un po' simile al processo che vale nel mondo reale. Immaginate che vi fermi un poliziotto e vi chieda tu chi sei? Si identifichi. Allora voi la prima cosa che potete fare è dire buongiorno, buonasera, io sono Paolo Campegiani, potete dare il nome. Il poliziotto dirà mi fa tanto piacere, dimostrami che sei Paolo Campegiani. Io a questo punto devo esibire un documento di identità che deve avere valore legale, che si assume che solo io possegga e che sopra c'è una foto che lui lo vede e dice sì, effettivamente i due si assomigliano. Poi puoi vedere la mia altezza, il sesso, la data di nascita, certo, se lui vedesse, se io gli desse un documento di uno che mi assomiglia che però ha 95 anni o 15 anni, io certamente non lo dimostro né 95 né 15. Quindi ci sono anche verifiche di questo tipo, anche l'età, quindi un attributo da questo non si sta l'identità. E una volta che il poliziotto mi ha identificato, ha visto che io sono chi dico di essere, a quel punto mi vuole dire va bene, prosegua. Oppure magari mi ha identificato perché io devo partecipare a una conferenza e mi dice ok, lei è autorizzato ad entrare. Quindi una volta che io dimostro chi sono, posso fare delle cose che finché non ho dimostrato che ero io non potevo fare. Questi passi sono l'identificazione, si chiamano in gergo, l'autenticazione, l'autorizzazione, quindi l'identificazione io dico chi sono, l'autenticazione, io dimostro che sono chi dico di essere, l'autorizzazione, una volta che ho dimostrato che io sono chi dico di essere, posso fare le mie cose. E quello che voi sperimentate quando usate un sistema di posta elettronica, voi inserite il vostro nome utente, la vostra password, avete dimostrato che siete voi, perché si presume che solo voi conosciate la vostra password auspicabilmente e il sistema dice ok, sei autorizzato a vedere la tua posta. Qui entra un punto molto importante, quindi noi abbiamo detto abbiamo tante identità, potremmo avere tanti sistemi di posta diversa, tanti siti diversi, i dati per accedere al nostro home banking non sono i dati con cui accediamo alla posta, potremmo avere più conti, potremmo gestire i conti di altre persone, possiamo avere tantissime identità. Ognuna di queste si porterebbe appresso un suo modo per dimostrare che io sono chi dico di essere. Questa è un'esperienza che avrete tutti provato nel fatto che quando usate tanti sistemi diversi, ognuno con il suo nome utente e la sua password a un certo punto voi vi scordate le password, non c'è niente a fare. O cominciate a usare la stessa password da tutte le parti, che è un rischio di sicurezza, perché se uno di questi sistemi come si dice in gergo viene bucato, cioè consenta a un attaccante di scoprire i vostri dati di accesso, la prima cosa che l'attaccante fa è che li prova su tutti gli altri sistemi del mondo, oppure su ogni sistema voi dovete usare un nome utente e una password diversi, ed è faticosissimo da gestire, ci sono strumenti che vi aiutano a farlo, però non è divertente. Nasce un altro problema, fornire il nome utente e la password, che è lo scenario che facciamo tutti, non è proprio un esempio di grande sicurezza, perché è molto facile fare una serie di cosiddetti attacchi informatici che facilitano la possibilità che qualcuno legga il vostro nome e la password, il vostro nome utente, la vostra password e quindi si spacci per voi, facendo quello che è un furto di identità. C'è stato qualche giorno fa un caso che racconto, perché l'ha pubblicato forse inconsapevolmente sul giornale su cui scrive, Corrado Augas, che ha ricevuto una mail che gli diceva io sono l'Enel, guarda che entro oggi hai un rimborso di 92 euro, però mi raccomando clicca qui e inserisci i tuoi dati d'accesso. Corrado Augas, che è una persona di una cultura infinita però non è un ipodoniscente, ha cliccato sul link e gli è apparsa una pagina che era anche fatta abbastanza male perché era scritto un po' in italiano, un po' in inglese, addirittura un po' in francese e lui che ha messo? Ha messo il suo nome utente su Enel e la sua password su Enel. Non ha ovviamente ricevuto nessun rimborso e anzi ha scritto sul giornale lamentandosi ma guarda un po' l'Enel che brutti siti che fa. Aperta tonda e chiusa tonda il correttore di bozze di Repubblica poteva forse dire guarda Corrado c'è una cosa che è andata un po' diversa. Però cosa è successo? Lui che una persona è stata tratta in inganno e ha dimostrato la sua identità a un soggetto che non aveva nessun diritto di conoscerla. E siccome lui ha messo il suo nome utente e la sua password su Enel ora sono possibili due scenari. Uno che lui è stato così preciso che il suo nome utente e la sua password non ha messo sempre la stessa password sul suo sistema di posta personale oppure che ha usato la stessa password. Nel secondo caso è un grosso guaio perché cosa ha fatto l'attaccante che ha carpito questi dati? Li ha subito provati a usare per collegarsi su un altro sistema e quindi se Corrado Auges ha un sistema di posta elettronica la prima cosa che è successo è che quello ha provato tutti almeno i primi 20-30-100 siti di posta elettronica del mondo per collegarsi al nome di Corrado Auges che è un giornalista che riceve anche confidenze delicate quindi insomma non è una cosa bellissima in sé allora che si fa? Allora non si usa il nome utente e la password dobbiamo usare qualcosa di più complicato ad esempio la vostra banca oggi fa che quando voi fate l'home banking voi mettete il nome utente e la password ma poi vi arriva un messaggino sul cellulare che può avere varie formule non entro in dettaglio serve un discorso non sono tutte sicure allo stesso modo però la banca Italia alla fine se la banca è stata autorizzata è perché va bene perché si dice beh anche se un attaccante si prendesse il mio nome utente e la password non si prende il mio telefonino quindi al più io vedrei uno che si prova a spacciare per me mette il mio nome mette la mia password ma a me arriva il messaggio sul telefono dico caspita che sta succedendo io in questo momento sto a mare e non sto certo facendo un banking insomma e quindi perlomeno lo fermo cioè in altro modo il modo in cui voi dimostrate la vostra identità online ha diversi livelli di sicurezza o come si dice in gergo si dice fidatezza che è bruttissimo il termine però è la traduzione dell'inglese assurance quindi noi diciamo livelli di sicurezza quando voi dovete fare un'operazione molto critica dovete dimostrare chi siete in un modo molto rigoroso questo è il concetto la banca vi chiede questo voi potreste usare anche la carta di identità elettronica ora non so se voi avete anche appunto raccontavo Eusebio dei problemi che ci sono ma se voi non so quale sia il formato usato in Svizzera per la carta di identità elettronica ma quello che si usa in Italia che è usato nel resto dell'Unione Europea è una smart card quindi un oggettino di plastica grande circa così tipo il banco ma la carta di credo che ha il suo chip sopra c'è la vostra foto ci sono dei dati che sono anche difficili a leggere perché è scritto tutto piccolo piccolo diciamo ma lì c'è un meccanismo che voi potete avere abilitato o meno per cui quando voi siete online potreste usare quella carta appoggiarla sul telefonino e quella carta dice questa è la carta di identità di Paolo Campegiani va bene dimostrami che sei veramente tu il proprietario inserendo il PIN in modo analogo a come fate col Bancomat voi per levare i soldi non inserite solo il Bancomat inserite il Bancomat e mettete un PIN perché? perché se qualcuno vi ruba il Bancomat non ha il PIN o non ci fa niente quindi ovviamente voi non conservate il PIN assieme al Bancomat perché altrimenti uno che prende prende tutto questo meccanismo di accesso con la smart card si dice in gergo è un meccanismo molto più sicuro allora noi non lo noi intendo lo scenario legislativo che vale in Europa non è che diciamo di usarlo perché uno deve accedere alla posta alla sua posta personale a un certo punto problemi suoi quasi diciamo a più se può usare il cellulare per farsi mandare l'SMS è già tanto però ci sono degli scenari in cui invece questa cosa voi la potete usare perché ad esempio voi siete costretti a usare un sistema analogo di sicurezza a questo se voi accedete ai dati sensibili di un altro un medico che vuole accedere al fascicolo sanitario ai dati sanitari di un suo paziente perché nell'esercizio delle sue funzioni quindi diciamo una persona sta seduta in ospedale e lavora non stiamo dicendo uno così deve autenticarsi in un modo molto forte non gli basta il nome utente e la password è costretto a usare una smart card che infila dentro il computer fisicamente è un sistema analogo di cui adesso non parliamo perché ovviamente lì il rischio che si corre è che quelle informazioni vadano in giro esistono tanti sistemi quindi per gestire per dimostrare che voi siete chi dite di essere tra questi sistemi per esempio in Italia ce ne sono almeno tre che vi posso citare che sono tutte sigle SPID C e CNS allora C e ve l'ho già detto è la carta di identità elettronica benissimo se siete cittadini italiani prima o poi la riceverete circa il 10% degli italiani la riceve ogni anno adesso siamo a 18 milioni prima o poi la riceveranno tutti poi potreste avere la CNS che è carta nazionale dei servizi questa per esempio l'avete se voi andate in camera di commercio avete un'azienda e avete bisogno del sistema per firmare i bilanci perché la legge prevede che se avete un'azienda in Italia il bilancio quando lo depositate lo dovete depositare in modo tale che si possa sicuramente dimostrare che voi l'avete depositato non qualcuno a nome vostro in modo tale che se fate in picci voi vengono a cercare questo è il concetto questo sistema lo dà la camera di commercio non solo si chiama appunto carta nazionale dei servizi poi si possono fare anche altre cose per esempio un sistema che la mia azienda ha costruito proprio per la camera di commercio e più di 4 milioni di italiani hanno anche questa identità un'altra cosa che potete questi sono i livelli di identità più forti più sicuri un'altra cosa che potete fare potete usare speed che significa sistema pubblico di identità digitale è un sistema di cui sentite parlare quando vi dicono che per fare il cashback ci vuole speed per il radio cittadinanza ci vuole speed perché ormai qualsiasi servizio della PA deve usare speed se voi volete speed ci sono tanti operatori che ve lo forniscono a cominciare dalle poste non solo sono sia operatori pubblici e privati l'unico pubblico è poste ve lo danno anche gratis e si basa su un nome utente una password ma poi vi arriva un sms sul cellulare ogni volta che voi volete quindi se voi volete usare speed per accedere al sito dell'inps benissimo oggi potete usare solo speed per accedere al sito dell'inps peraltro quindi dovete oppure non lo usate l'inps non vi sta a sentire non gliene importa nulla andate al caffo vi dice voi mettete il vostro nome utente mettete la vostra password e poi vi arriva un sms che dice inserisci questo codice tipicamente questo è l'approccio e così questo vi consente di fare alcune operazioni non tutte ma alcune sul sito dell'inps c'è un'ultima cosa che voi potete fare una volta che avete l'identità digitale e che avete un po' chiaro quindi perché esiste e perché serve che è la firma digitale cioè immaginate un momento che io eusebio vogliamo firmare il contratto di qui sopra allora come si fa lo scriviamo su carta io lo spedisco lui se lo stampa lo firma me lo rimanda indietro io lo firmo quindi la firma autografa diciamo se io però voglio fare che ha i suoi problemi perché comunque è falsificabile perché si può dire no ma guarda io quando ho firmato questa parte non si leggeva tanto bene sono vari problemi può essere un po' disconosciuta la firma digitale è un modo non entriamo in dettaglio adesso per mettere la firma su un documento elettronico in un bel file che sta su schermo e il modo in cui è fatto siccome è un sistema di identità digitale eusebio non potrà mai dire no ma io non ho firmato ha firmato qualcun altro al posto mio perché il modo in cui si crea quella firma c'è dietro un meccanismo appunto di autenticazione forte per cui non scappa non può come si dice in gergo ripudiare la firma per darvi un'idea la mia azienda fa alcuni milioni di firme digitali al mese sui suoi sistemi credo che ormai siamo sui 10 milioni al mese da 15 anni che esiste l'azienda noi non abbiamo mai avuto un caso di un nostro cliente che ci ha chiamato in tribunale per dire questa firma io non l'ho messa l'ha messa qualcun altro a posto mio questo è il livello di sicurezza è un livello altissimo perché se voi pensate a milioni di contratti iscritti ha voglia a fare casini ha voglia a fare impicci ha voglia a contestazioni la firma non è mia l'ha messa qualcun altro detto questo brevemente veniamo alla domanda della privacy allora la questione che ha a che fare con l'identità evidentemente perché la privacy significa alla fine che alcune informazioni su di me sulla mia persona sono divulgate a soggetti senza il mio consenso senza la mia piena consapevolezza di quello che sta succedendo queste informazioni descrivono me come persona quindi ho a che fare con la mia identità e io nel momento stesso in questo momento noi stiamo usando questo sistema di videoconferenza il sistema di videoconferenza sa che noi lo stiamo usando e può se vuole cominciare a pensare che questa persona che vi parla adesso è la stessa che prima tre ore fa stava facendo un'altra conferenza con qualcun altro cosa ci fa? ci può fare un sacco di cose perché allora diciamo questo elemento esistono tanti servizi online che voi che tutti noi oggi possiamo usare che sono gratuiti voi potete usare Facebook che non si fa pagare voi sia che scriviate un messaggio ogni secondo su Facebook sia che lo usiate solo una volta all'anno per ricevere gli auguri compleanno per voi è gratis ma Facebook sa quando voi vi collegate sa di che cosa parlate sa dove abitate sa quali sono i vostri amici quindi può anche non conoscere il vostro vero nome perché voi su Facebook questo sarà anche un adias però comunque conosce delle cose sulla vostra identità se voi su Facebook avete tantissimi amici che sono svizzeri Facebook pensa mi sa che questo qui è svizzero perché tipicamente gli svizzeri hanno molto spesso amici svizzeri se voi avete tantissimi amici a Roma probabilmente voi abitate a Roma perché non è tipico che uno che abiti a Trento conosca 100 persone a Roma e uno a Trento è probabile il contrario e quindi che ci fa Facebook dice sai che c'è adesso io queste informazioni le uso e ti mando una pubblicità ammirata cioè se tu sei a Roma e sei svizzero forse a te interessa sapere qualcosa ad esempio che a Roma tra quattro mesi si vota oppure se sei svizzero ti interesserà sapere qualche cosa sul fatto che c'è una banca svizzera che ha aperto una filiale a Roma e fa delle promozioni per i nuovi clienti quindi voi apparentemente state usando gratis su un prodotto e siete contenti avete Facebook parlate con gli amici e tutto quanto ma in realtà qualcosa lì è in vendita e siete voi proprio voi siete in vendita il prodotto che si vende siete voi perché Facebook vende le persone i loro profili agli inserzionisti e guadagna un sacco di soldi lo fa Facebook lo fa chiunque attenzione tutti i servizi gratuiti hanno questo meccanismo vi faccio un esempio che è avvenuto in tempi recenti di cui potete aver sentito parlare avete sentito c'è stata quella controspeculazione su quel titolo di un'azienda di videogiochi che si chiama GameStop GameStop doveva andare fallita perché valeva 3 dollari i fondi speculativi hanno scommesso sul fallimento a quel punto sono arrivati tantissimi piccoli operatori piccoli risparmiatori che hanno cominciato a comprare il titolo e si è scatenato un meccanismo per cui quell'azione che stava a 3 dollari doveva andare a 0 è arrivata a 400 dollari ha avuto variazioni incredibili ieri perdeva il 50% ma valeva sempre 100 dollari queste persone hanno fatto trading e su questo siamo d'accordo come l'hanno fatto questa è una domanda interessante relativa a noi usando un'applicazione il cui nome badate un po' si chiama Robin Hood il noto fuorilegge che rubava ai ricchi per dare ai poveri che bello che bella storia invece no manco per niente perché Robin Hood è gratuita quando voi fate trading con la vostra banca voi pagate quando lo fate con Robin Hood è gratis allora lo faccio con Robin Hood attenzione uno dei proprietari Robin Hood è un fondo speculativo e c'è un accordo che voi accettate quando cominciate a usare Robin Hood che vi dice quando tu compri e tu vendi la tua richiesta di acquisto e di vendita io prima la passo al fondo speculativo che è il proprietario della baracca che paga per lo show lui la può decidere di onorare o meno se non la onora la tua va in negoziazione nel circuito telematico generale quindi voi non state nel recinto di quelli che trattano direttamente voi siete la seconda razza la seconda classe e quel fondo speculativo che fa siccome sa che può anche non conoscere il vostro nome e cognome non gli importa però sa che voi fate tante operazioni al giorno avete tanto capitale investito avete comprato in questi settori e siete disposti a comprare o a vendere a un certo prezzo e allora che fa si costruisce un modello del mercato e quindi dice tutte le persone che scrivono da Chicago che hanno azioni non so di Google e che negli ultimi tre mesi hanno fatto trading più di cinque volte sono disposti a vendere a 200 euro caspita se questa informazione non ha valore ha un valore infinito perché vi può precedere e costruire una strategia di mercato per sapere a un certo punto voi comprate o voi vendete quindi la cosa è gratis ma la taglia avete dato un sacco di valore questo non vuol dire allora domani non uso Robinhood non uso Google non uso Facebook qualcuno può usare tutti gli strumenti che vuole ma deve essere consapevole che qualcuno paga per lo spettacolo come si dice in informatica non ci sono pasti gratuiti e allora ora che vi ho detto questa cosa che è una brutta notizia dice caspita qualsiasi cosa faccio sono inguagliato vi faccio vedere brevemente questo vado a concludere due strumenti che vi danno un po' la percezione di quello che sto dicendo proprio concretamente il primo elemento se io sto su internet uso un browser benissimo per navigare ora io adesso userò un browser vi faccio vedere condividerò lo schermo che io su questo computer non ho mai usato mai non l'ho usato non l'ho configurato è uscito pari pari dalla fabbrica nuovo di pacca si dice questo browser che io non ho mai toccato secondo voi è unico o è uguale a tanti altri io non l'ho mai usato non ci ho mai installato niente sopra la risposta verrebbe da dire a tutti è sarà uguale a tanti altri cioè se io compro la macchina dal concessionario alla fine a parte l'allestimento è uguale a tutte le altre no? bene adesso vi faccio vedere la situazione che c'è qui se riesco a condividere lo schermo come faccio a condividere lo schermo mi sa che mi dice ah no share screen ce l'ho ok perché ogni sistema c'ha la sua allora vediamo qua allora faccio vedere questa cosa ora lasciate perdere che in inglese non vi preoccupate lo sapete poi meglio di me questo sito poi Eusebio vi può dare tranquillamente il link se volete fare la prova farà un test sul mio browser per vedere quanto è unico al mondo al mondo è un browser nuovo di pacca mai usato mai toccato pulissimo io questo non lo uso per lavorare benissimo ora ci metto un po' a fare il test che perché cosa fa sta chiedendo al mio browser che lingua parli come ha fatto il tuo computer che tutta una serie di informazioni e guardate cosa viene fuori qui che clamoroso il mio browser è unico tra i 306.000 che negli ultimi giorni hanno fatto il test io penso di stare a usare il prodotto più standard del mondo e invece io ce n'è uno come me ogni 306.000 immaginate se io cominciassi a usarlo per davvero questo browser ci installassi le estensioni lo modificassi i bookmark le opzioni io questo browser c'è scritto solo che per me preferisco usare la lingua inglese se non c'è quella la lingua italiana eppure un ogni 306.000 è un numero spaventoso immaginate che voi aveste un'auto a Roma che ce l'ha solo una persona ogni 306.000 sareste in sette in tutta Roma ad avere quell'auto non serve manco prendervi la targa vi trovano subito è chiaro? questo è il concetto di privacy che è preoccupante se volete perché il mio browser che è associato a me perché fatalmente lo uso io su questo computer sono un computer aziendale tende a dire delle cose su di me senza che io l'abbia mai autorizzato esplicitamente io sono un ingegnere informale ho un dottorato di ricerca ma non mi sono messo a configurare questo oggetto non mi importa nulla ma quello che è successo è che nonostante ciò nonostante la mia volontà queste informazioni circolano e se io sono uno su 306.000 io domani posso collegarmi sul sito di Repubblica poi vado sul sito del Corriere poi vado sul Corriere del Ticino che presumo esista e poi su altri 4-5 giornali quelli possono anche non sapere che io sono Paolo Campegiani ma sanno che io sono lo stesso del giorno prima perché sono uno su 306.000 dicono guarda questo che ha letto il giornale ieri l'ha letto pure oggi e invece mercoledì non lo legge perché chissà per quale motivo e mi fanno poi una proposta commerciale dicono ma tu leggi sempre il giornale vieni da noi ti facciamo pure un buon prezzo che a me può sembrare conveniente ma è mica l'autorizzare a fare questo processo detto questo vi lascio però con una notizia positiva se noi siamo condannati alla morte no per carità si possono fare tante cose per gestire la propria privacy su internet ne faccio vedere solo una anche lì Eusebio vi darà il link questo sito che vedete Your Online Choices è un sito che ha fatto l'Unione Europea la Commissione quando ha preteso che quelli che vendono pubblicità su internet la vendano non necessario si possa diciamo venderla in modo generale non rispetto agli interessi cioè a voi può essere capitata questa esperienza andate su un sito di prenotazione viaggi perché volete fare un viaggio a Parigi poi andate su Repubblica e vi dice guarda ci sono degli hotel a Parigi che fanno un prezzone questo perché perché la pubblicità che voi ricevete su Repubblica è legata al fatto si ricollega appunto a quel discorso di uno su trecentosemila diciamo così e dice guarda che questo cinque minuti fa andò a vedere il prezzo di un hotel a Parigi fagli due euro di sconto così ci casca siamo tutti contenti ci mettiamo d'accordo questa cosa si fa ora io qui clicco su Italia ma guardate c'è anche Svizzera faccio qui solo perché mi trovo già la potete gestire in questo modo benissimo qua vedete una voce che vi dice le tue scelte your online choices adesso questo sistema su questo browser che io non ho mai usato in vita mia nuovo pulito eccetera va a chiedere a tutti questi che vendono pubblicità diciamo personalizzata gli chiedono ma tu questo qui lo conosci e vedete che mano mano che lo chiede la cosa richiede un po' di tempo appaiono per ognuno di questi soggetti un'iconcina verde che vi dice sì sì questo mi conosce oppure una che dice no non l'ho mai visto vedete io di concine verdi ne ho poche ma non zero e questo browser io non l'ho mai usato se voi fate la prova sul vostro browser voi di concine verdi ne troverete molte decine probabilmente allora che si fa a un certo punto quando questo ha finito di raccogliere le informazioni sulla pubblicità comportamentale si chiama cioè in base ai vostri comportamenti se voi ditemi guarda ti dico se voglio andare a Parigi saranno pure fatti miei non c'è bisogno di dirlo al resto del mondo voi ci vedete qua questa bella voce che dice disattiva tutte le società voi cliccate su questa cosa e il sito con i suoi tempi diciamo può funzionare o no certe volte è un po' sovraccarico va a contattare vedete tutti questi e gli dice no questo non vuole che tu gli mandi pubblicità specifica per lui fatti i fatti tuoi ora ci metterà un po' di tempo a farlo alcune volte la comunicazione non riesce perché questi qui ovviamente non hanno l'interesse a fare che le cose funzionino bene vedete qua c'è Amazon voi la pubblicità su Amazon è specifica per le vostre profili e la potete disabilitare qua dentro ci sono tutti c'è la pubblicità di Google c'è la pubblicità di Facebook se voi vi siete stufati di ricevere pubblicità comportamentale andate qui cliccate mandami la pubblicità generica non voglio quella specifica se io prenoto il viaggio a Parigi non voglio che sull'ompeggio di Repubblica o chi per essa ci sia scritto vai a Parigi perché magari sono fatti miei perché ci vado con mia moglie perché ci vado con l'amante perché il mio collega non deve sapere che io vado a Parigi non sono cose che voglio condividere questo farà sì che voi riceverete pubblicità un po' più generica e sarà un passo che voi seguite per mettere da parte per proteggere la vostra identità online il messaggio è questo è quasi impossibile proteggere la vostra identità a prova di tutto nel mondo perché dovreste fare una vita monacale quasi parlo di identità online e avreste delle complicazioni che non vale forse la pena neanche affrontare però potete mettervi in quel x per cento che è un po' più prudente facendo piccoli gesti diciamo di igiene informatica compreso questo qua vedete il sito qua diciamo non ha reagito benissimo in questo caso dovrei ricaricarlo e ripetere la procedura ma non è questo lo scopo prima o poi funziona vi garantisco che alla fine funziona vedete un drastico calo della pubblicità che ricevete perché comunque tutti questi soggetti che campano sull'impicciarsi cose su cui non si devono impicciare sono stati costretti dall'Unione Europea a fare questa cosa voi questo lo potete usare tranquillamente basta che il computer a un certo punto stia in Italia ma anche no è riuscito a fare quello dovete questo è quello che vi volevo dire diciamo come idea proprio generale introduttiva sull'identità digitale è un tema molto complesso ripeto anche affascinante perché poi non è solo una questione tecnologica anche implicazioni antropologiche sociali economiche culturali di ogni tipo gestire la privacy su internet vale comunque la pena farlo ci sono molte risorse in rete che voi potete cercare per capire come si protegge la vostra privacy e tutti i siti sono costretti magari in un modo complicato a mettervi nella condizione di non dire loro tutto quello che vorrebbero sapere su di voi questo si fa ci vuole un po' di tempo un po' di attenzione ma è realizzabile io ho parlato più diciamo ho fatto forse 35 minuti non 30 quindi è opportuno che ora mi fermi anche perché se avete delle domande delle curiosità poi metto appunto tolti gli investimenti su bitcoin il resto va tutto bene beh diciamo che c'hai tutto il cervello come lo dici hai caricato una mole di informazioni non indifferente sicuramente è chiaro che a differenza dell'identità notarile anche se gli stessi notari poi hanno fatto molte riflessioni abbiamo più di una identità quindi l'identità digitale non è univoca come spesso non è univoca la firma ma qui c'è qualcuno che ci insegna che c'è la firma amministrativa la firma contabile che una volta erano disgiunte tu ci hai detto che la usiamo quando abbiamo a che fare con un computer anche se la sensazione che abbiamo è sempre più che in realtà questa identità digitale ormai ce la chiedono anche quando ci presentiamo di persona ci sono dei casi appunto ridicoli che vabbè ho metto qui di raccontare e la prima domanda che voglio farti io è ma forse le macchine possono difenderci meglio di quanto possiamo fare noi nel senso io sto andando ormai nel dimenticatoio di tutte le password che ricordavo solo dieci anni fa con una via illusione e quindi adotto strategie che mi evitano questo affidandomi a per carità sistemi a doppia dimenticazione c'è qualcuno che mi aiuta a garantire la sicurezza del mio blog anche perché io fondamentalmente questo computer è un computer in ufficio ma che va in giro e passo da altre parti e quindi questi sistemi che memorizzano la password o comunque con la doppia dimenticazione ti rompono le scatole ma ti garantiscono che identificano la postazione terminale di sicurezza fisica forse è meglio che provare a ricordarsi appunto come dicevi tu 100 password assolutamente attenzione il modello di business che ci ha portato a questi problemi di privacy è il modello per cui google è gratis facebook è gratis hotmail è gratis gmail è gratis e così via ma loro campano di pubblicità e ovviamente dal punto di vista dell'inserzionista è meglio mandare pubblicità mirata non è scritto da nessuna parte che loro debbano campare di pubblicità vi faccio un esempio che sarà rilevante tra qualche anno l'auto a guida autonoma allora l'idea che io non debba guidare è bellissima perché così c'è un sacco di tempo libero e faccio forse anche meno incidenti benissimo l'auto deve essere un oggetto un computer che sta lì e che decide cosa fare perché non è che posso provare a connettermi via internet a chiedere scusa che faccio giro a destra giro a sinistra e in frattempo metto sotto uno quindi chi sta costruendo questi sistemi si trova con il problema che non riesce a venderci la pubblicità sopra vorrebbe sarebbe immaginate voi state in macchina vi appare la pubblicità qui c'è un bellissimo ristorante fermati oggi e c'hai lo sconto su un piatto come si fa a fare? la macchina deve andare avanti se sto sull'autostrada un secondo può essere la differenza tra fare o non fare un incidente quindi non è scolpito nella pietra che io debba subire questa invasione e sicuramente se io uso degli strumenti anche semplici come dicevo anche solo la doppia autenticazione anche solo sistemare questi permessi di accesso non è che tolgo tutto però tolgo il 95% e già insomma è già più piacevole non sarà perfetto non sarà una società ideale però già sto molto meglio questo sì faccio un ultimo passaggio poi passo al giro di parole il problema dell'identità digitale come dicevi tu nella guida a macchina autonoma se lo sono già posti i militari e lo hanno accantonato nel senso ci sono adesso le armi automatiche che non sono le pistole automatiche sono dei sistemi di puntamento e mira e sparo completamente automatici a quel punto abbiamo tu affidi a una macchina la decisione di uccidere un uomo si sono detti sì perché tanto la consulenza gli aveva fatta la ditta che le vendeva e quindi queste armi sono in servizio in tutti gli scenari di guerra che sono tanti nel mondo e il problema stesso si pone con la macchina a guida automatica io rinco sono a bordo della mia splendida vettura guida automatica metto sotto qualcuno la colpa di chi è esattamente grazie per adesso a Paolo che ci ha fatto questa carleggiata anche se ci ha fritto il cervello e giro di domande perché secondo me qualcuna in giro c'è qui non dico chi ma qui c'è qualcuno anche che conosco molto bene che se non ricordo male venticinque anni fa firmava con la firma digitale i primi mandati della pubblica amministrazione di diversi soldoni ormai è completamente fritta non c'ha domande ma c'ha una bella soddisfazione a sentire queste cose è veramente interessante te apre proprio una visuale infinita di Marchingegni grazie domande io Teresa è già risposta e di mente altre domande stavolta possiamo richiedere qualche consiglio il fatto di Whatsapp che la privacy adesso dovrebbero dare tutti i nominativi a Facebook poi adesso hanno smentito poi dicono che in Europa comunque siamo più protetti che all'estero in America secondo te che sai tutte queste cose è meglio passare a Telegram signalo signalo che i loro numeri saranno anche fatti miei diciamo loro non hanno dato nessun consenso al fatto che il loro numero arrivi a Whatsapp ora al di là del fatto che può anche essere vero in astratto io non lo so che ci sono motivi tecnici però è un'enormità questa cioè immaginate un giornalista che abbia delle fonti è una cosa catastrofica poi ognuno di noi comunque può avere numeri quindi direi sì se uno può fare il passaggio comunque un esercizio vale la pena fare ovviamente dovrebbe essere un fenomeno di massa ma già il fatto che si è cominciato che qualcuno avesse cominciato a farlo hanno rinviato di tre mesi il passaggio che doveva essere l'otto febbraio diventato l'otto maggio perché poi loro sono bravissimi quindi a scoprire quanta gente usa cosa cioè ovvio che fanno questo hanno sistemi che costano miliardi non di lire di euro per capire questo quindi lo sanno capire questo non c'è dubbio quindi sì io sono assolutamente a favore a fare questo perché comunque un buon esercizio di educazione digitale quindi cambio se si può sì va bene poi uno fa sempre il tempo a tornare indietro a tornare certo così capiscono che è un messaggio grazie avete una domanda prego anche a livello europeo vi un rinvio sì perché questo rinvio riguarda l'Europa cioè dovrebbe essere l'otto maggio dovrebbe essere in tutta Europa poi c'è un problema il regolamento non europeo intendevo a livello mondiale non penso perché noi in Europa abbiamo una grandissima fortuna che è quella rappresentata dal regolamento europeo sulla protezione dei dati il GDPR che dice che se io sono un cittadino dell'Unione Europea e qualcuno nel mondo ovunque in Australia pure in Mozambico fate dove volete usa i miei dati lui lo deve fare secondo le leggi europee non ce ne frega niente se sta in Australia negli Stati Uniti o in Mozambico ed è un principio di sovranità fortissimo e questa legge dice che la privacy è un diritto fondamentale dell'individuo non assoluto però è fondamentale quindi sui diritti si tratta ma fino a un certo punto questa è una cosa però mi sembra che ci siano delle difficoltà quando naturalmente una dispersione del dato avviene in un contesto non europeo perché i paesi come per esempio anche l'America Stati Uniti eccetera non rispettano non riconoscono le nostre regole e quindi diventa molto difficile poi avere una qualche tutela quindi in realtà succede questo allora cosa è successo che si è provato a fare negli anni passati un accordo proprio con gli Stati Uniti che diceva va bene ma noi di voi ci fidiamo lo stesso detto proprio terra terra questo accordo è stato bocciato dalla Corte di Giustizia Europea che ha detto un funzionario non può fare una norma che è più importante di una legge perché se no questa non è più una repubblica diciamo è una tecnocrazia questo è stato il principio che carinamente la Corte di Giustizia ha spiegato l'aveva bocciato già un'altra volta lo stesso accordo l'ha bocciato la seconda ora spero che non lo facciano per la terza perché comincia a diventare ora che succede se ad esempio uno negli Stati Facebook con i suoi server negli Stati Uniti gestisse i miei dati come già fa non rispettando il GDPR che l'Unione Europea può combinare delle multe Facebook potrebbe non pagare le multe certo però poi gli si può privare la possibilità di funzionare in Europa si può chiudere in 5 minuti ovviamente diventerebbe una guerra commerciale infinita perché poi dietro Facebook c'è il governo americano non stiamo a parlare di una società di 4 scappati di casa però diciamo che il principio è forte in realtà quello che fanno questi soggetti è dire d'accordo noi ci siamo adeguati alla GDPR vi dico una cosa se voi avete curiosità potete scoprire come si fa a chiedere a Facebook tutti i vostri dati secondo la GDPR c'è proprio un link su Facebook che voi non lo trovate se lo cercate dentro Facebook dovete usare Google voi andate lì e gli dite salvo io sono Paolo Campegiani questo è il mio account Facebook questa è la mia mail dimmi tutte le cose che tu sai di me voi fate questa cosa e vi mette paura io ho scoperto quando l'ho fatto gente di cui avevo dimenticato tutto salvo che su Facebook avevo deciso di non averla come amica perché loro mi hanno chiesto vuoi essere amico mio io ho detto no grazie io non mi ricordavo chi fossero Facebook se lo ricordava che io non gli avevo dato l'amicizia guardate mette paura Facebook vi dice che se un giorno siete andati a cinema avete detto che l'ultimo film di che so di chi vi pare di Roman Polanski vi è piaciuto quello se lo ricorda è una cosa che mette paura se fate questo test tra l'altro Facebook se fate questa cosa non vi manda subito il malloppo ci passa possono passare alcune ore perché per recuperare tutti i vostri dati ci mette ore tanti ce ne ha un'altra domanda visto che lei è così esperto come si fa a capire chi è il responsabile di privacy di appunto Google eccetera eccetera che noi siamo obbligati io ho provato e riprovato non l'ho trovato ci rimandano a uffici vari ma nessuno risponde anche tramite l'assistenza tecnica questo cambierà quando saranno in vigore due nuove proposte di direttive il Digital Service Act Digital Market Act che questa commissione ha proposto che dicono che questi soggetti siccome sono così grandi devono avere delle procedure specifiche proprio per gestire i reclami sulla privacy oltre che tantissime altre cose non si possono comportare come il cinema sotto casa che vabbè a un certo punto lo chiami cancellami dall'elenco dei soci e fine è un altro discorso non c'è un modo specifico che lo sappia bisogna passare se uno non sa che fare deve passare per il rappresentante legale non lo trovi cioè le chiedo perché questo perché nella pubblica amministrazione non siamo tenuti quando usiamo delle piattaforme connesse in questo caso a Google a indicare nelle informative che facciamo chi è il responsabile della privacy ma non ci siamo riusciti in tutte le maniere possibili allora se è PA io suggerirei di chiedere ad Agid come ci si comporta perché il caso fare un quesito sì perché il caso lo conoscono già anche perché poi appunto uno può avere il problema che se usa servizi di Facebook poi non può garantire che quei dati cioè questo è il problema che è l'evidenza che quei dati siano usati nel modo corretto e sono dati di un cittadino in quanto servizio pubblico ovviamente Agid probabilmente sa qual è la procedura da seguire e anche come sia come ci si tutela sia come si tutela al cittadino poi diciamo che comunque è sempre il soggetto a cui ci interessa insomma io farei così sì grazie prego diciamo che c'è poi anche un bonus nel GDPR che è un ottimo dispositivo che è una norma e come tale non può scendere in dettagli estremamente tecniche però per quello che va descritto Paolo più o meno come il gioco di carte che è incrociando le colonne indovino la carta che hai pensato siccome i sistemi di anonimizzare i dati sono a volte molto semplici se io trasferisco dei dati anonimizzati in maniera semplice miei e ne trasferisco due serie incrociandoli smettono di essere anonimi e questa è un'operazione banale adesso senza c'è il famoso caso di Uber delle spogliare liste di New York se volete vi racconta alle otto della sera faccia solo questa allora a un certo punto Uber ha detto io voglio mettere a disposizione i dati in forma anonima che mostrano per tutte le corse avvenute a New York nell'arco di alcuni mesi dove è iniziata e dove è finita perché così magari la città di New York fa uno studio e capisce che ci sono certi tipi di traffico e deve migliorare le linee della metro bellissima idea che è successo che un ricercatore ha preso i dati e l'ha studiata e ha visto che alcune corse terminavano in un posto di New York in cui l'unica cosa che c'era nel raggio di qualche centinaio di metri era un locale di spogliarello per il resto un deserto e che partivano tutte più o meno dallo stesso indirizzo quindi c'era qualcuno che per andare a vedere lo spettacolo di spogliarello partiva da casa sua e quella casa pure era isolata quindi siamo partiti da dati anonimi ma siamo riusciti a scoprire che un certo poi il ricercatore non ha detto certo i dati ma insomma si poteva dimostrare che con alta confidenza matematica che una certa persona andava a vedere i locali di spogliarello e saranno anche i fatti suoi tant'è che oggi gli stessi dati se vengono messi in distribuzione vengono alterati cioè rispetto al punto di partenza vero e quello finale si introduce una cosa casuale di spostamento in modo tale che più o meno sia lo stesso percorso ma non sia esattamente lo stesso percorso attenti quindi a usare Uber quando avete il locali di spogliarello questa è la conclusione grazie diciamo che spero che sia stata fatta molta strada rispetto al secolo scorso quando per trasmettere i dati anonimi io mi trovai non faccio non faccio nessun riferimento un signore molto importante che mi consegnò una busta con due flop ha detto che cosa sono i dati anonimizzati e come e qui ci sono le anagrafiche i dati li ho divisi come prevede la legge grazie della fiducia succede va bene secondo me non c'è chiarito le idee abbiamo le idee molto più confuse però forse siamo più consapevoli di quello che facciamo con tutti questi strumenti e quindi ci staremmo forse un po' più attenti spero di sì spero comunque sia stato interessante sicuramente a me ha fatto molto piacere e le domande sono state molto stimolanti questo sì questo vi ringrazio volevo chiedere andando in Instagram e lasciando Whatsapp ci si deve cancellare ci si può cancellare o si smette di addoperarlo non lo so nello specifico uno sicuramente uno può usare Instagram senza necessariamente usare Whatsapp però siccome fanno parte della stessa azienda questo è il problema sicuramente l'azienda ha già un buon profilo dell'utente qualcosa già sa quindi diciamo se il problema è non usare Whatsapp perché uno vuole evitare problemi di sicurezza di privacy di sicurezza allora è opportuno pensare a delle alternative è più una questione di principio certo beh infatti sì perché siamo circondati però appunto usare alternative tipo Signal oppure Telegram può essere una buona cosa poi attenzione Telegram ha anche esso dei passaggi opachi oggi non è tutto chiaro diciamo Signal è lo strumento migliore perché la Commissione Europea lo fa usare ai suoi funzionari perché perché i funzionari della Commissione Europea devono dirsi anche cose molto delicate che non è carino che gli Stati Uniti vengano a sapere questo è il punto quindi diciamo se lo usa la Commissione io tendo a pensare che funzionerà bene cioè comunque i dati che Whatsapp o Instagram hanno cioè li hanno e ormai te ritengono sì poi uno se ne va il contratto poi prevede che a un certo punto vengono cancellati però senza però non si sa no no si fa quello è sicuro Google per esempio una volta conservava i dati delle ricerche di sempre poi l'Unione Europea gli ha detto no li tieni degli ultimi 18 mesi o degli ultimi 6 mesi che comunque è tantissimo perché in 6 mesi voglia fare ricerche quindi sì cioè anche io se domani mi cancello una traccia mia rimane per un po' per lo meno per un po' per lo meno diciamo come ultima indicazione io ho dei figli quando ho spiegato alla mia figlia che Facebook ha dei dati su di me che comunque sono relativamente scarsi rispetto alla mia vita mentre di lei sa tutto dalla nascita e che quindi nel momento in cui andrà a fare un colloquio di lavoro l'azienda che può permetterselo saprà di lei cose che neanche io so che sono il padre diciamo la bambina ha smesso rimane loggata ma lascia veramente poche tracce e da questo che per carità è un estremo perché è figlia di un padre paranoico poverina e alla alla tragedia di quella bambina che si è uccisa invece del corpo c'è un'infinità di grigi e che quindi forse anche fare attenzione quando si educano i ragazzi quando si parla con i ragazzi a fargli crescere questa consapevolezza senza demonizzare il mezzo perché non possiamo creare dei giovani asociali però appunto dei giovani consapevoli perché la loro vita sarà completamente digitale quindi significa completamente tracciata e come dice mia socia sto aspettando da diversi lustri che lei mi racconti tutto davanti al caminetto un giorno davanti al caminetto te lo racconterò Facebook già lo sa già lo sa Facebook già lo sa grazie Paolo grazie a voi è stato veramente gentile è stato veramente un piacere grazie a voi grazie a tutti per essere venuti Presidente a te saluti come sempre grazie Paolo grazie Paolo è stato molto interessante sicuramente avevamo già tutti un po' di paranoia prima adesso ci aumenterà e comunque è stato un piacere riaprire i dialoghi dopo quasi un anno perché noi li abbiamo chiusi proprio a febbraio e l'anno scorso con l'ultimo intervento al Victoria e li riapriamo ora visto che questo è l'unico mezzo per andare avanti e ci rivedremo il mese prossimo il 3 marzo per un nuovo appuntamento su cui vi informeremo appunto con i nostri canali grazie a tutti e a presto